Trieste avvolta nella nebbia giorni alterni per il periodo delle feste dovrebbe rivedere la luce del sole nella giornata di mercoledì ma sarà un miglioramento effimero sia delle condizioni meteo che della qualità dell'aria perché giovedì già incalza l'anticiclone di origine africana a riportare una situazione di ristagno e il quadro previsto dagli esperti dell'OSPER per i prossimi giorni. A partire dalla giornata di domani avremo un debole fronte in quota che interesserà la regione facendo affluire in quota delle correnti più umide e fresche all'interno comunque di un contesto anticiclonico. Mercoledì mattina invece, sempre continuando a guardare la situazione generale, avremo della prevalenza di correnti più secche a tutte le quote che porterà a un generale miglioramento del tempo mentre da giovedì in poi avremo di nuovo l'arrivo dell'anticiclone subarficano che si farà sentire di nuovo portando al ristagno. Quanto alla qualità dell'aria dunque le zone di Gorizia e Trieste potranno beneficiare del breve cambiamento di mercoledì con un po' di ventilazione per vedere abbassarsi i livelli di polveri sottili la cui concentrazione oltre la soglia è stata favorita in particolare nei primi due giorni dell'anno proprio dall'anticiclone. Come riferisce il direttore dell'ARPA regionale Fulvio Stel, l'area più a rischio è come sempre quella del Pordenonese ma anche nel centro urbano di Trieste la tensione deve essere alta considerate le previsioni del tempo per i prossimi giorni in assenza di una perturbazione più strutturata in grado di cambiare radicalmente le condizioni di ristagno. Inversioni termiche che portano aria calda in quota determinano sostanzialmente l'impossibilità all'aria di rimescolarsi lungo tutta l'atmosfera e quindi bloccano anche gli inquinanti nei bassi strati dell'atmosfera quindi giovedì e venerdì sarà una situazione che favorirà questo tipo di ristagno.